Per Yamaha è stato fondamentale partecipare a MIRTECH proprio per dare un segnale positivo a quella che è la ripartenza del nostro settore. Nonostante le difficoltà e le complessità del momento, era importante presentarci e dar visibilità a quelle che sono le nostre novità. Siamo presenti nella sala neri con il nostro sistema FC4 di audio immersivo. La novità assoluta di Yamaha di questo ultimo tempo è dove presentiamo questa grande tecnologia sul quale crediamo molto. Le novità in assoluto in quest'anno sono le nuove casse della serie DHR attive e passive, quindi con le CHR. Yamaha è presente anche sul palco con il nostro PM insieme a Cristiano Grassini che accompagna la band che performa sul palco di Live Uplay. Ci tenevamo molto a essere presenti anche lì, il riscontro è assolutamente molto positivo. Oltre al palco siamo presenti anche nell'area dedicata ai sistemi a colonna, dove è presente il nostro Stage Pass 1K.